Fano Music Story, il libro di Paolo Casisa che racchiude la storia della musica nella nostra città, verrà distribuito in 30 biblioteche marchigiane. A darci la notizia è lo stesso autore. Sono contentissimo perché la Regione Marchi ha deliberato l'acquisto di 30 copie del libro Fano Music Story che saranno distribuite ad altrettante biblioteche marchigiane. Alcuni mesi fa ho contattato direttamente il Presidente della Regione Gian Mario Spacca che da subito si è mostrato interessato al progetto. Negli ultimi giorni del 2010 gli ho fatto avere in visione una copia della pubblicazione. Lui immediatamente si è attivato con gli uffici competenti per formalizzare l'acquisto attraverso un fondo che promuove la cultura nella nostra Regione. Trovo che sia un bellissimo segno che attesta l'importanza culturale, storica e largamente popolare del libro che a breve potrà essere consultato in ben 30 biblioteche della Regione. Quindi dopo l'assessorato alla cultura della provincia di Pesero Urbino che ha offerto il patrocino al libro ora anche la massima carica istituzionale della nostra Regione ha posto un importantissimo segnale di interesse e partecipazione al progetto. Sono però molto dispiaciuto che il Comune di Fano attraverso i vari assessorati e la Fondazione Carifano non abbiano finora dato un segno di interesse ma continuerò ad impegnarmi per fare in modo che questo possa accadere perché io qui rappresento circa 500 musicisti fanesi che con i loro ricordi e le loro foto hanno collaborato direttamente alla stesura del libro e tutti noi crediamo fermamente che anche la storia della musica moderna di Fano sia da considerare cultura. Inoltre, l'ultima cosa, da metà febbraio Fano Music Story sarà distribuito anche in 50 edicole di Fano e le frazioni vicine. Questo per andare capillarmente anche a tutti quelli che magari finora non sono stati informati della pubblicazione e potranno trovarci racconti di vita, immagini della loro gioventù. Grazie a tutti.